Una buona ferata e benvenuti a questo sesto numero di Vista sul Golf. La rubrica settimanale di Tela Universo dedicata al Sud Puntino, una puntata decisamente anche interessante, qualcosa già è stato anticipato questa mattina e ieri sera da qualche portale di informazione della provincia di Latina. Non vi anticipo l'argomento e soprattutto non vi anticipo l'ospite, ma facciamo un salto indietro, andiamo nel Tg Universo del primo di maggio, giorno del lavoro. Mandammo un servizio in quella giornata importante appunto per il lavoro, dopodiché capirete tutto di cosa ci occuperemo questa sera. Se la regia di Danilo Costanzo è pronta, direi di mandarlo a questo servizio. Ha rifiutato subito ogni forma di assistenzialismo statale e poi ha avuto il merito, riconosciuto da ogni parte d'Europa, di rimettere in moto il ciclo produttivo dell'ex Evotepe nelle campagne di Santi Cosme e Damiano, che ha incarnato, grazie alla precedente esperienza dell'ex Manuli, il sogno industriale poi fallito dell'intero Sud Puntino. È la ManCop, la società cooperativa, formatasi sulle scenerie di quella che era l'ex Evotepe. Vi hanno aderito una cinquantina di ex dipendenti che dopo aver ripreso la produzione di nasce adesivi è andata ben oltre. Dopo l'ok del curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di Latina, l'avvocato Vincenzo Manciocchi, ora ha quasi ultimato la bonifica sistemazione e messa in sicurezza del mega stabilimento di Via Portugaleo, grazie ad un investimento di ben 250.000 euro. L'intento è quello di realizzare un piccolo medio polo industriale artigianale e commerciale per l'intero Sud Puntino e una forza anche di centro intermodale a favore del porto di Gaeta. La ManCop sta fornendo ora agli interessati un servizio chiave in mano per la gestione di magazzini e depositi di materiali. Sta offrendo anche spazi per la nascita di nuove start-up, soprattutto giovanili, garantendo anche diversi servizi, tra cui la sorveglianza 24 ore al giorno per tutto l'anno e servizi di manutenzione specializzata. Noi crediamo in questo progetto e vogliamo creare un qualcosa che mette a disposizione dei giovani, delle piccole e medie imprese, degli strumenti per svilupparsi, per cercare di stare sul mercato. Avete capito tutto, ci occuperemo di come ricreare lavoro in un tessuto martoriato per il Sud Puntino. Lo facciamo questa sera e gli auguro veramente una buona serata e soprattutto lo ringrazio per la sua disponibilità, l'avete poc'anzi visto, al presidente della cooperativa sociale ManCop, Pasquale Erasmo Olivella. Buonasera presidente, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Di voi si sono occupati tutti i più importanti media italiani, anche la mitica ZDF, quella tetesca, anche le più importanti televisioni europee. Hanno capito cosa sta avvenendo a Santicosma e Damiano? Voi da circa quattro anni, dal 2012, state dimostrando che si può uscire definitivamente dal turno della crisi, della disoccupazione, presidente. Intanto buonasera a te, ti ringrazio per avermi dato a me e alla ManCop questa ulteriore dimostrazione di quello che siamo stati capaci di realizzare. Noi abbiamo fatto un progetto semplice, solo che ci abbiamo creduto. Progetti come i nostri si fanno solo quando ci sono degli ideali. Non può essere tutto messo ai fini per guadagnare lo stipendio che è importante. Ma per fare questi progetti, per sviluppare questi progetti come abbiamo fatto noi, ci vuole perseveranza, amore e ideali verso la costruzione di qualche cosa. Oggi posso dire apertamente che il progetto sta a un punto crudo della situazione. Il nostro progetto è stato semplice. Dopo la deindustrializzazione avvenuta in Italia, specialmente nelle zone, diciamo, nella nostra provincia o nel sud, perché noi ci siamo sempre sviluppati a livello industriale, perché ci stavano delle leggi che favorivano gli industriali, tipo la gas, MES e tipo la cosa. Poi c'è stata la deindustrializzazione, oppure come la vogliamo chiamare, la desertificazione, di tutte quelle aziende manifatturieri. Noi eravamo una multinazionale, però eravamo manifatturieri, quindi abbiamo seguito la sorte che la globalizzazione o la mondializzazione, come si voglia, senza regole, ha fatto toccare, diciamo, a queste aziende. Noi ci siamo trovati dall'oggi a domani. Diciamo quando? Quando è successo? Diciamo, nel 2011 la società ha creato lo stato di insolvenza. Alla fine, con tutto il percorso, con tutta la situazione di gas, integrazione di cose, la società è andata in fallimento. Ma questo era un progetto studiato a tavolino da altri multinazionali, perché poi l'abbiamo scoperto dopo. Perché, diciamo, si è capito dopo quando le multinazionali dei nastri adesivi sono andate a delocalizzare la produzione in altri paesi che gli consentivano di fare quello che... Dove la manodopola costa di meno. Ma non solo la manodopola, gli consentivano di fare molte cose. Noi cosa abbiamo fatto? La prima cosa che mi preme, questo gruppo di ex dipendenti manuti, perché... La prima cosa è stata quella che abbiamo rifiutato la gas integrazione in deroga, perché ci avevano dato addirittura un altro mestiere, gas integrato in deroga. Noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto questa cooperativa e abbiamo presentato un progetto, è un business, al curatore fannimentare per affittare. L'avvocato Vincenzo Manciocchi, no? Al giudice. Al giudice. L'avvocato Vincenzo Manciocchi è il curatore fannimentare che gestisce per conto del giudice. Abbiamo presentato un progetto che poi si snodava in due progetti. Noi abbiamo preso quello, diciamo, finale, la produzione in linea, taglio, tuan, stampa e palettizzazione. Siamo riusciti, avendo anche delle garanzie di società specializzate in questo settore che ci davano delle commesse, abbiamo fatto il primo fitto e siamo partiti. Nel primo progetto abbiamo affittato una parte del megastabilimento Manudi. Che stava andando in una situazione di abbandono. E' un progetto produttivo che i macchinari che non rientravano nel progetto Mancoppe, il curatore, su disposizione del giudice, gli doveva vendere. Adesso cosa è successo? E' successo che è scattato il secondo progetto, quello del polo industriale, artigianale e commerciale. Ecco, voi avete praticamente, avete dunque rimesso in modo il ciclo produttivo e siete stati capaci, ed è questa anche la ragione per la quale l'ho invitata, a trasformare l'ex Evoteip, l'ex Manuli, in una sorta di polo industriale lungo la riva destra del Garigliano. Cioè, io so che vengono a stoccare le merci aziende che lavorano all'interno del porto commerciale di Gaia. Ma addirittura le posso fornire alcuni dati. La grande capacità del nostro progetto è stata quella, sapendo che noi stavamo parlando di 45 milioni di metri quadri e 100 e oltre 14 ettari di terreno capannone, che potevamo benissimo capannone al coperto. Oggi, nel nostro stabilimento, oltre alle nostre attività che abbiamo sviluppato, perché siamo stati... Io chiedo a Danilo Costanzo se ci fa vedere le immagini, così i nostri telespettatori si rendono conto anche di quello che appunto il Presidente Mancop sta dicendo. È un'area industriale molto vasta nelle campagne di San Dicosa e Damiano, proprio a 200 metri di linea d'aria dal confine geografico tra il Lazio e appunto la Campania. Mi scusi Presidente, stava dicendo, avete praticamente anche rimesso in moto, avete anche bonificato il terreno, i terrenici costanti, no? Diciamo, noi abbiamo riqualificato tutta la bonifica vera e propria, la sta facendo il curatore fallimentare, perché tocca, compete al curatore, anche se diciamo che poi non erano rifiuti, erano dei scarti di lavorazione che nel momento del fallimento sono restati là. Ma vediamo oggi, noi oggi, oltre alla nostra attività, che è quella del taglio dei rotoli, confezionamento, produzione di anime di cartone, nastri stampati, quindi abbiamo un nostro mercato con un marchio Mancoppe, lavoriamo per altre multinazionali. Oggi la globalizzazione ha fatto in modo che il semilavorato, cosiddetto la materia prima, viene dalla Cina, dagli India, stando noi a due passi dal porto di Gaeta e vicino al porto di Napoli, arrivano i container direttamente nel nostro stabilimento, noi li trasformiamo e diventiamo la società. Questa è la prima attività, poi siamo riusciti, però debbo dire un grazie a tutti i lavoratori, soci della cooperativa. Noi abbiamo investito a oggi, stamattina abbiamo fatto con il Consiglio di Amministrazione, informando l'Assemblea, 2 milioni e mezzo di investimenti. Io adesso la devo interrompere perché tutti mi chiedono, ed è questa una domanda che le devo fare, ma voi soprattutto nella fase di riqualificazione del sito, questi soldi dove li avete trovati? Lavorando. Non penso che i vostri TFR siano seguiti per... No, allora, io voglio dire solo una cosa, i soci della cooperativa Mancoppe hanno dato 100 euro, di cui 75 le spese di avvocato e di notari per la Costituzione e 25 euro in cassa. Con il nostro lavoro laborioso siamo riusciti in 5 anni a incamerare tanti di quei soldi da poter investire, investimento continuo, innovazione, continua. Quindi quello che guadagnate a voi nelle affine... Le voglio dire una cosa, io ho la guardiaria che addirittura stanno facendo i corsi di inglese, perché se viene un camionista che non parla bene l'italiano, loro devono sapere l'inglese. Oggi solo l'eccellenza può dare delle risposte, ma mi consento un attimo, Saverio. Io oggi posso dire che nel nostro sito produttivo, che eroga un servizio di eccellenza per quanto riguarda tutti, diciamo, guardiaria, noi abbiamo una pesa elettronica che non sta nemmeno nel porto di Gaeta, noi lavoriamo con quelli del porto di Gaeta, abbiamo una pesa di ultima generazione, la più grande, quella per risposte per ricoste, comprata nuova. Ma quello che sto dicendo, noi, è dimostabile con le fatture. Oggi abbiamo 25 aziende in affitto e arriveremo nel primo semestre, a fine del primo semestre, con ulteriori 500 mila euro di investimenti che questa mattina abbiamo approvato, su mia proposta l'assemblea dei soci ha approvato altri 500 mila euro. arriveremo a 41-42 aziende che daranno lavoro, mentre oggi siamo 150 che lavorano, insomma, di tutta l'azienda e più la mancoppa, arriveremo a 240-250. Quindi mi sta dicendo in sintesi che si sta vedendo un po' la luce fuori da questo tunnel. Ma sicuramente, ma sicuramente. Noi abbiamo delle aziende che lei conosce bene, noi abbiamo il filo all'occhiero dell'azienda del Golfo, abbiamo... Ma non faccio nome perché è pubblicità, però ho capito, avete realtà importanti che fossero... Che c'hanno 30 dipendenti, 25 dipendenti. Io le chiedo, ti rispondimi in maniera più stringata, in maniera tale da poterle fare altre domande. Le faccio una confidenza. Si insedia il governo Renzi al Quirinale, vanno a giurare, eccetera, e vedo giurare una persona molto corpoluta che... È venuto da noi. Due giorni prima, dico, ma io questo signore l'ho visto alla mancoppa. Questa persona, abbastanza possente, poi ho capito essere Giuliano Voletti, stava giurando in qualità di ministro del lavoro, era venuto 48 ore prima al stabilimento di San Cosimo e Damiano come presidente della Lega delle Cooperative. Voi, presidente, mi lasci la battuta e la provocazione, qualche santo in paradiso l'avete pure. Ma noi non abbiamo santo in paradiso. Io le posso dire una cosa, non voglio far politica. Io ho fatto politica per 30 anni, sindacato per circa 40. Oggi... Ma lasciamo stare, se era CGL era sindacato. Eppure ad altri livelli, penso che lei lo sa benissimo. Le posso dire una cosa? Non abbiamo avuto una subvenzione da nessuno. Lei sa benissimo che l'attuale ministro del lavoro, ministri, parlamentari, segretari regionali, deputati, sono venuti da noi, ma non abbiamo avuto fino adesso nessun finanziamento. Mi confermi una indiscrezione che le voglio dire a distanza di anni. Io so che chi vi ha motivato a fare questa cooperativa sono stati due uomini di chiesa. L'ex arcivesco di Gaeta, l'ex abbate di Monte Cassino, Fabio Bernardo Onorio, e il direttore dell'ufficio che si occupa di problemi sociali e del lavoro della diocesi di Gaeta, che è un sacerdote di scavoli, che è Don Simone di Vito. Mi conferma questo? Sì, glielo confermo, ma io per coscienza devo dire che quando noi siamo andati in disgrazia, io mi sono permesso, io vengo dalla scuola dei Manuti, sono cresciuto come sindacato nella scuola dei Manuti. Noi abbiamo interpellato la famiglia Manuti. La famiglia Manuti ci aveva fatto capire, chiaramente, che non era intenzionato, però gli piaceva il nostro progetto e chi ci ha dato l'aiuto, chi è venuto spesso, l'attuale presidente, il dottor Maurizio Cossaltere, che è il presidente operativo di tutto il gruppo Manuti, è venuto molte volte. E addirittura si è messo a disposizione perché ci vogliono anche delle garanzie per lavorare nel mondo dell'industria. E noi ne saremo sempre riconoscenti. Quando la politica le viene a chiedere, ma come avete fatto? Ci dia qualche consiglio, lei che risposta ha dato? Saverio, oggi la politica c'ha gli occhi bentati, per non dire c'ha la mortadella sopra gli occhi, del lavoro e del disagio dei disoccupati e delle persone che escono fuori dal mondo del lavoro. Non gli interessa niente nessuno. L'unica cosa che sanno dire, e penso che quando abbiamo organizzato tante manifestazioni, tutti sono solidari, ma non si costruiscono posti di lavoro con la solidarietà. Se noi abbiamo costruito questo, oltre che un impegno abbiamo investito, abbiamo innovato una continuazione. Presidente, io le faccio un'altra domanda perché poi dobbiamo parlare di un'altra questione che riguarda un'altra realtà importante che è Formia, perché mentre questo progetto è andato bene e ha avuto un grandissimo successo, a Formia tra poco vi dirò un progetto quasi analogo, praticamente ha conosciuto una situazione di stand-by. Voi avete coniato uno slogan che peraltro è su un murale all'ingresso del vostro sito produttivo, che è resistere, resistere, resistere. Mi sembra tanto quella frase che disse l'ex procuratore capo di Milano Borrelli quando veniva attaccato qualche anno fa dalla politica. Gli ex dipendenti dell'Evotep erano molti di più di 50. Voi siete rimasti in una cinquantina, erano quasi 250. Qualcuno... No, erano 130. 130, va bene, qualcuno è andato in disoccupazione. Qualcuno nel frattempo, Presidente, mi dica la verità, l'è venuto a bussare? Dice Presidente Olivella, vogliamo tornare, abbiamo forse sbagliato, non l'abbiamo valutato bene, alla luce poi di questo progetto che è andato in porta. Due persone che non hanno aderito nella prima fase sono venute da noi, stanno lavorando e guadagnano il proprio stipendio. Hanno chiesto scuso oppure... Ma non serve chiedere. Nel mondo del lavoro io non pretendo le scuse di nessuno, perché togliere la dignità, una persona che ha bisogno di lavorare può avvenire nella cooperativa Pancoppa e la cooperativa Pancoppa si mette a disposizione, senza togliere la dignità a nessuno. Parliamo di Formia, perché circa un annetto fa è nata un'associazione a cui hanno aderito proprio ex i suoi colleghi, dell'Evotepe, di altre realtà industriali fallite del Sud Pontieno, tra l'artificio, di altre realtà produttive. Diamo un calcio alla crisi, è il titolo di questa associazione, che voleva, uso purtroppo l'imperfetto, avere la disponibilità di un'area importante di Formia dell'ex Enauli per realizzarvi un'azienda agricola. Qui c'è stato un rimbalo di responsabilità tra il comune e la regione, che è proprietaria dell'area, perché la regione dice quest'area noi la dobbiamo preservare qualora un domani dovessero iniziare i lavori per il Polichinio del Golfo. Di chi si sta occupando di questa vicenda è un suo ex collega sindacalista, attualmente è segretario provinciale, generale della CIS, Roberto Cesare, che io, Giuseppe e me, l'abbiamo intervistato e sentiamo cosa ci dice su questo rimbalo di responsabilità tra appunto Comune e Regione Lazio, che purtroppo sta pregiudicando il reinserimento di un'altra fetta importante di maestranze e che purtroppo sono rimasti a casa. Sentiamo Cecere. Voi siete ancora convinti che quest'area possa ancora diventare una questione di sviluppo e di rilancio per tante persone che stanno rischiando sulla loro pelle di essere esposti dal mercato del lavoro? Sicuramente è un'opportunità, comunque un bene così importante, fermo da diversi anni, considerando che ormai si sta tornando al primario, può essere un'ottima opportunità, un settore agricolo che deve essere rilanciato, d'altronde qua giù, al sud della provincia Pontina, non crediamo che apriranno nuove aziende, nuove fabbriche. È un modo per creare un'alternativa a questi lavoratori e per farli sfuggire da quella che è la miseria ormai, perché stanno finendo gli ammortizzatori sociali, sono lavoratori in parte ancora in mobilità, in parte sono già disoccupati, noi non sappiamo francamente che risposta dare. Come CIS l'abbiamo deciso di ripartire dal territorio, dare le risposte immediate a quelle esigenze che hanno i nostri lavoratori che hanno perso il lavoro. Le istituzioni, nonostante i vostri chiediti d'allarme, continuano a giocare, a nascondire, c'è un preoccupante rimballo anche di responsabilità? Le istituzioni stanno facendo alcune cose, mi riferisco alla Regione Lazio, ha fatto tanti provvedimenti rispetto al lavoro, però purtroppo sono ancora lontani da quelle che sono le esigenze reali da questi lavoratori, perché fare garanzia giovani, fare il progetto di ricollocazione, fare alcuni bandi per i siti dismessi, la domanda è sempre rivolta a quei soggetti che già sono in qualche modo sul mercato del lavoro. Questi lavoratori non sono più sul mercato del lavoro e non rientreranno mai più sul mercato del lavoro perché nessuno li riqualifica, nessuno crea opportunità di lavoro. Ritornare al primario, fare una buona azienda agricola, su alcuni progetti, alcuni hanno già fatto il corso per l'apicultura, si pensa ad una fattoria didattica, adesso è arrivata la notizia che questo sito è stato destinato alle emergenze, ma alle emergenze tenerlo così abbandonato comunque non ha senso, va bene le emergenze, si può riqualificare, anche se diretto alle emergenze ci saranno degli insediamenti da salvaguardare, da custodire, abbiamo parecchie persone pronte a farsi carico di tutto quello che c'è da fare. Presidente Olivella, siamo veramente sotto lo stessione dell'ultimo chilometro, dobbiamo chiudere la trasmissione, come commenta quest'altra situazione che purtroppo non ha conosciuto l'epilogo vostro? Positivo. A me mi dispiace quanto dei lavoratori che si associano sui formi cooperativi e che vogliono dal basso costruire qualcosa. Io colgo l'occasione, di dire, noi abbiamo quasi tre ettri di terreno che non gli stiamo in questo momento gestendo, in più abbiamo altri 30.000 che abbiamo fatto dell'Osi, ampiantati, noi per fare dei percorsi, perché nel nostro progetto noi vogliamo anche che le scuole vengano a visitare, però devono avere, perché noi abbiamo creato una cittadella insimpiosi con il territorio. Abbiamo veramente, io penso che se queste persone vengono da noi, non è che si deve fare per forza a Formia, non è che un progetto si deve fare a Formia, possono venire da noi, gli possiamo dare degli uffici a disposizione, e anche dei capannoni, che nelle prime fasi noi siamo fatti così. Come che stava dicendo? Vogliamo fare un invito? Io lo sto dicendo pubblicamente alla trasmissione, anzi colgo l'occasione, noi, questo l'abbiamo ribadito più di una volta, noi abbiamo 35 uffici, chiavi in mano, abbiamo detto che alle prime due start-up a livello femminile che vengono per un anno e non gli diamo gli uffici gratis. Ma non abbiamo avuto nessuna richiesta. Vabbè, questa è un'ulteriore dimostrazione, che a me, quando le persone si mettono insieme per costruire, dove si può fare anche rete, è positivo, dobbiamo dare un segnale forte, invece di vedere tutto questo degrado, capannulico, può tutto degradato, cercare di far partire dei progetti validi per costruire l'occupazione. è terminato il tempo che viene il principe azzurro che bacia un territorio e tutto si mette in movimento con occupazione, come questo, come questo. No, questo non esiste. Bene, io, Presidente, la ringrazio, avremmo voluto chiudere questa puntata odierna di Vista sul Golfo con un servizio che riguarda il cinema, ma riguarda anche il mondo del lavoro, ma non abbiamo tempo. Vi volevo far sentire l'intervista che ci ha rilasciato Michele Placito a Latina nella presentazione di Sette Minuti, questo film bellissimo, anche per certi versi drammatico, ambientato, girato proprio a Latina su una storia vera che vede però un cast di primissimo livello. Purtroppo non ho il tempo, io ringrazio ancora il Presidente della Mancop, Pasquale Erasmo Olivella, ringrazio e soprattutto saluto anche tutti i dipendenti di questo Presidio Industriale che è rinato grazie a questa iniziativa imprenditoriale di questa cooperativa. L'appuntamento con Vista su Golfo torna fra sette giorni alle 22.35 di giovedì prossimo, più, minuto o meno, naturalmente qui su Teleuniverso. Naturalmente la puntata poi la potete rivedere nei prossimi giorni sui nostri social media. Grazie ancora e a una buona serata. Grazie a tutti.